Aiutarti a realizzare il desiderio che tu hai, il desiderio profondo di vivere l'amore, ma slegando l'amore dall'oggetto di desiderio. Noi dobbiamo imparare a fare questo, slegare l'amore dall'oggetto di desiderio. L'amore è un'energia che possiamo vivere, se una persona non ce la dà, possiamo viverla con qualcun'altra. Diventano strumenti, diciamo così, le situazioni, diventano strumenti finalizzati alla crescita personale. Ma è in un rapporto di interdipendenza positivo che si può creare con le persone che ci interessano. Quindi è importante il rapporto di interdipendenza positivo, non un rapporto di interdipendenza negativo. Cioè la relazione deve essere positiva, deve dare energia positiva e allora si crea un'interdipendenza positiva. Quando la relazione ti dà un'energia negativa, non ti dà quello che tu vorresti, entri in uno stato di malessere, allora devi avere la forza di chiudere, di lasciare e di guardare oltre. Perché soltanto attraverso questa forza tu potrai risolvere, tra virgolette, le situazioni della tua vita. Le situazioni della tua vita che altrimenti non si risolveranno mai, altrimenti resteranno sempre, come dire, irrisolte. E questo non fa bene né a te stesso né agli altri fondamentalmente, né all'altra persona. Quindi non resistere al dolore, cedi, viviti il dolore e poi chiudi la relazione. Questo è l'unico modo per essere veramente felice e superare veramente gli amori malati lasciando aperto le porte a nuovo. Lasciando aperto le porte a nuovo potrai tenere veramente, come dire, di viverti nuove emozioni, nuove situazioni, e andare avanti nel tuo percorso di vita all'insegna del miglioramento personale. Ecco, questo è quello che devi imparare a fare. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, con il mio seminario del titolo Seduzione Emozionale, come conquistare chi desideri. E poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, 9.30.19, Autostime, seduzione, in amore nel lavoro. E il riferimento è 333.15.11.703. Poi ti ricordo di nuovo che puoi abbonarti al canale, sia al canale Massimo Terramasco, per acquisire il tuo percorso di crescita personale con me, sia al canale Felicità e Benessere, per diventare moderatore del canale. Qui l'abbonamento è veramente simbolico. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!